Fa tappa anche all'impianto di compostaggio di Salerno la commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo di rifiuti. Nel previsto tour in campagna dedicato anche al porto di Salerno, i membri della commissione presieduta da Alessandro Bratti hanno chiesto di effettuare un sopralluogo anche al biodigestore salernitano, finito nell'occhio del ciclone per un'inchiesta della magistratura e dell'autorità anticorruzione per una serie di irregolarità riscontrate. Irregolarità per le quali l'impianto alla nascita considerato un fiore all'occhiello del ciclo di rifiuti, tanto da essere stato oggetto di un'analoga visita dell'allora commissione di inchiesta che elogiò il progetto, è fermo da ottobre dopo che il comune di Salerno ha rescisso il contratto con la Daneko, l'impresa che lo stava gestendo. Ora sarà l'inchiesta a fare piena luce ma non è mancato oggi ai membri della commissione chiedere chiarimenti tra i più agguerriti proprio i campani, Paola Nunes del Movimento 5 Stelle e Marcello Taglialatela, entrambi i sostenitori che invece il progetto iniziale presentava degli errori come l'assenza di una linea per il baglio e la non certificata qualità dell'organico che giunge all'interno dell'impianto. Al termine della visita che è stata guidata da Luca Caselli, il dirigente del settore ambiente che nelle scorse settimane ha chiesti ottenuto di essere ascoltato in audizione dall'ANAC e dall'assessore alle politiche ambientali Angelo Caramanno, abbiamo raccolto le impressioni del presidente della commissione di inchiesta. Ci sono questioni che sono probabilmente legate alla regolarità degli appalti, nelle modalità di conduzione che riguardano una sfera che deve essere approfondita in cui giustamente qui l'ingegnere ci ha prospettato le sue idee e ce ne sono altre, vedremo di capire come andranno a finire anche eventualmente le indagini ma questo è un tema. L'altro tema insomma l'impianto è un impianto come concessione per quelli che abbiamo visto noi fino adesso sicuramente un impianto interessante dal punto di vista tecnico e anche con alcuni spunti di avanguardia. Evidente perché un impianto del genere possa funzionare bisogna che il materiale che entra sia materiale particolarmente adeguato per questo tipo di lavorazione. Mi sembra che una delle questioni poste sia proprio il tema dell'impurezza del materiale in entrata, cosa diciamo che deriva probabilmente da una raccolta differenziata che già ha raggiunto dei buoni livelli da queste parti ma che magari così come da altre parti ha notevole impurità. È stata anche una cattiva gestione, che idea si è fatto lei da questa visita? Io non posso dire che ci sia stata una cattiva gestione perché sarei molto presuntuoso da una visita di dieci minuti a dare dei giudizi di questo genere. Ripeto, vedremo di fare eventualmente ulteriori approfondimenti rispetto alla situazione e ai problemi che sono stati segnalati. L'impostazione tecnologica, ripeto, è un'ottima impostazione e se questo impianto, anzi, io credo che debba essere fatto funzionare nel più breve tempo possibile perché poi più tempo si sta fermi, più i costi per chi dovrà gestirlo successivamente si alzano, più i cittadini dovranno pagare. Quindi sicuramente c'è un tema di legalità ipotetico o meno che deve essere affrontato, bisogna verificare quali sono gli errori, ma bisogna farlo ripartire in fretta. Questo è quello che mi viene da dire oggi. Dopodiché, l'ho già detto prima, se ci sono eventuali approfondimenti, li faremo sentendo ovviamente le autorità competenti. Noi non siamo la magistratura, quindi non è che abbiamo necessità di individuare i colpevoli, abbiamo necessità di individuare dei fenomeni su cui la magistratura ci può dare sicuramente un contributo, così come chiederemo anche all'ANAC eventuali documentazioni aggiuntive di quelle che abbiamo già chiesto fino ad oggi, ma poi sentiremo magari il Comune, l'Agenzia Ambientale ci ha già dato l'ARPAC alcuni elementi. Insomma, vediamo se il caso di approfondire o meno questa situazione, perché rispetto in campagna le situazioni critiche ce ne sono tantissime. Purtroppo, diciamo che dovremmo poi dare delle priorità, non so se questa sarà una di quelle. Sicuramente però è stato utile questa visita, anche perché quando si parla di qualcosa è sempre utile andarla a vedere prima di emettere qualsiasi tipo di giudizio. Questo abbiamo fatto e vediamo poi successivamente cosa approfondiremo.